Oggi ritorneremo su un tema affascinante e misterioso, il Purgatorio, così come è stato compreso e vissuto da Santa Caterina da Genova, una delle figure mistiche più influenti della Chiesa Cattolica. Questa Santa, vissuta tra il XV e il XVI secolo, ha lasciato un'impronta indelebile nella teologia cattolica, specialmente per la sua visione del Purgatorio. Attraverso il racconto della sua vita e le sue riflessioni mistiche, ci addentreremo nelle profondità della sua anima, esplorando il suo cammino di conversione e il modo in cui ha compreso il mistero della purificazione delle anime. Rimanete con me fino alla fine per saperne di più e non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblichiamo. Sono Samaria Maniscalco, benvenuti su Gli Angeli sono con noi. Santa Caterina nacque nel 1447 a Genova in una famiglia aristocratica. A soli 16 anni venne data in sposa Giuliano Adorno, un ricco mercante, il quale però si dimostrò dedito al gioco d'azzardo alla vita mondana. Per diversi anni Caterina, travolta dalle circostanze, visse immersa in un mondo vuoto e privo di spiritualità. Tuttavia, come spesso accade nelle vite dei Santi, un momento di crisi segnò per lei l'inizio di una nuova vita. Il 20 marzo 1473, durante una visita al monastero di Nostra Signora delle Grazie, ebbe una visione che cambiò radicalmente la sua esistenza. Vide i suoi peccati nella loro cruda realtà e al contempo fu colta dall'immensa misericordia di Dio. Questa esperienza profonda la condusse a una decisione risoluta, riassunta nella seguente frase, non più mondo, non più peccati. Tornata a casa, ebbe una seconda visione di Gesù sofferente, carico della croce, che la spinse a dedicarsi interamente alla vita spirituale. Dopo la sua conversione, Caterina visse una vita di straordinaria intensità mistica, sostenuta dalla preghiera e dalla comunione quotidiana, un'abitudine rarissima per l'epoca. Ma la sua non fu una vita puramente contemplativa. Al contrario, fu attivamente impegnata nel dirigere l'ospedale di Pa Matone, il più grande e complesso ospedaliero di Genova, dove si dedicò alla cura dei malati. Anche suo marito, che nel frattempo si era convertito, finì per unirsi a lei in quest'opera diventando terziario francescano. Questo equilibrio tra vita contemplativa e servizio attivo agli altri ci dimostra una profonda verità della vita spirituale. L'unione con Dio non allontana dal prossimo, ma avvicina, perché si impara a vedere e agire con gli occhi e con il cuore del creatore. Santa Caterina, però, è conosciuta soprattutto per il suo Trattato del Purgatorio, un'opera che all'epoca gettò una nuova luce su questa dottrina. Infatti, diversamente dalle rappresentazioni tradizionali del Purgatorio come un luogo fisico, Caterina lo descrive anche come un fuoco interiore, un'esperienza dell'anima che desidera purificarsi per raggiungere l'unione con Dio. Secondo lei, il Purgatorio non è appunto tanto e solo un luogo, ma soprattutto una condizione dell'anima. Le anime purganti sono totalmente immerse nella carità divina, ma allo stesso tempo soffrono immensamente per la distanza che le separa da Dio a causa delle imperfezioni ancora presenti in loro. Nel suo Trattato, la Santa afferma, le anime del Purgatorio non possono avere altra scelta che essere lì. Ciò avviene per disposizione di Dio che ha operato con giustizia. Non possono desiderare altro se non la volontà di Dio, perché essa è pura carità. L'anima che si trova nel Purgatorio, dice Caterina, è come un oggetto coperto che, pur essendo esposta al sole, non può godere appieno dei suoi raggi perché è oscurato dalle impurità. Il fuoco del Purgatorio consuma gradualmente questa impurità, permettendo all'anima di aprirsi sempre più alla luce divina. Una delle intuizioni più profonde di questa Santa è che l'anima, consapevole della propria imperfezione, non desidera altro che essere purificata, persino se questo significa affrontare grandi sofferenze. La sua volontà è perfettamente allineata a quella di Dio e ciò che provoca il vero tormento non è tanto la pena in sé, quanto il ritardo nel raggiungere l'unione completa con l'Altissimo. Un altro aspetto cruciale del pensiero di Caterina è il rapporto tra giustizia e misericordia. L'anima, pur soffrendo, è felice, perché sa di essere nel piano perfetto di Dio. Tanto che la Santa afferma, non esiste felicità paragonabile a quella di un'anima del Purgatorio, tranne quella dei Santi del Paradiso, e ogni giorno questa gioia aumenta per influsso di Dio. Il Purgatorio, perciò, non è soltanto un luogo di espiazione, ma anche un dono fatto per amore. L'anima, pur sentendo il peso delle proprie colpe, si rende conto che Dio, nella sua infinita bontà, ha temperato la sua giustizia con la sua misericordia, permettendole di purificarsi in un periodo limitato. E Caterina dice, la pena non diminuisce, diminuisce il tempo in cui restare in essa. Per spiegare la tensione tra sofferenze e abbiatitudine nel Purgatorio, la Santa usa un'immagine potente. L'amore di Dio è come un fuoco che consuma le imperfezioni dell'anima, ma allo stesso tempo la riempe di una gioia indicibile. Questa duplice esperienza è il cuore della visione del Purgatorio. Da un lato la sofferenza che purifica, dall'altro l'amore divino che eleva l'anima verso la perfezione. Santa Caterina ci ricorda che il Purgatorio è un luogo di speranza, un luogo dove la giustizia e la misericordia di Dio si incontrano per purificare le anime e condurle alla beatitudine. La sua mistica ci insegna che la sofferenza è il mezzo attraverso cui l'anima si apre sempre più all'influsso dell'amore di Dio, ed è proprio quest'amore potente e trasformante che alla fine conduce le anime in Paradiso. Le sue parole ci invitano a riflettere profondamente sulla nostra vita spirituale, ricordando con le parole di Caterina che Dio è tutto misericordia e sta con le braccia aperte verso di noi per riceverci nella sua gloria. Non dimentichiamo perciò l'importanza della preghiera per le anime del Purgatorio affinché anch'esse possano presto godere della visione beatifica di Dio. A questo proposito approfitta del link in descrizione per lasciare le tue intenzioni di messa e dimmi nei commenti se conoscevi questa santa straordinaria. E se questo video ti ha ispirato ricordati di lasciare un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. Come sempre chiedo e prometto preghiere, se il Signore vuole ci vediamo giovedì. Che Dio ti benedica. Grazie a tutti.